Allora, la cosa più importante è che esattamente fra un mese ricorre il quinto anno della scomparsa di Don Mario e quindi è anche in onore suo che questo osservatorio giovanile nasce. Don Mario si è sempre occupato dai giovani, fin dagli anni 70. È chiaro che all'inizio la sua preoccupazione è stata sul fenomeno emergente, quello sulle tossiche dipendenze e poi ha spostato ovviamente la sua attenzione anche col passare del tempo nell'ambito scolastico, quindi nell'ambito dei giovani perché effettivamente i giovani sono il futuro della nostra società quindi sono le persone che sono la forza, la grande speranza di ognuno di noi e pertanto creare un osservatorio dopo il nostro intervento che ormai nelle scuole si è moltiplicato negli anni ormai abbracciamo circa 70 istituti scolastici nel territorio di Roma e dopo esserci resi conto che i ragazzi hanno bisogno di essere ascoltati, di partecipare abbiamo pensato di creare questo osservatorio per poter dare maggiore voce a loro e perché poi siano loro i veri protagonisti di quelle che sono effettivamente le speranze, i disagi tutto quello che riguarda il loro mondo per poter noi adulti in qualche maniera essere in grado di ascoltarli meglio e svolgere delle politiche giovanili migliori di quelle che attualmente esistono.